Oggi andiamo a vedere l'ultima parte di questo meraviglioso libro intitolato Il potere della consapevolezza e andiamo a vedere la fede e inizia con una citazione di Ebrei 11.1 Miracolo è il nome dato da coloro che non hanno fede alle opere della fede La fede è la sostanza delle cose per cui si spera, l'evidenza delle cose non viste La vera ragione per la legge di assunzione è contenuta in questa citazione Se non ci fosse una profonda consapevolezza che ciò che speri ha sostanza ed è possibile realizzarlo sarebbe impossibile assumere la consapevolezza di esserlo o di averlo E il fatto che la creazione è finita è ogni cosa esiste che ti muove alla speranza e la speranza a sua volta implica aspettativa e senza aspettativa di successo sarebbe impossibile usare consapevolmente la legge di assunzione L'evidenza è un segno della realtà Quindi questa citazione significa che la fede è la consapevolezza della realtà di quello che assumi Cioè la convinzione della realtà delle cose che non vedi La percezione mentale della realtà dell'invisibile Di conseguenza è ovvio che una mancanza di fede significa non credere all'esistenza di ciò che desideri Nella misura in cui ciò che sperimenti è la riproduzione fedele del tuo stato di coscienza Una mancanza di fede significa il falimento continuo in qualsiasi uso consapevole della legge di assunzione In tutte le epoche della storia la fede ha giocato un ruolo importante Essa permea tutte le grandi religioni del mondo E' intessuta in tutta la mitologia e ancora oggi è quasi universalmente incompresa Contrariamente all'opinione comune L'efficacia della fede non è dovuta all'opera di qualche intervento esterno E dall'inizio alla fine è un'attività della tua coscienza La Bibbia è piena di numerosi passi sulla fede e sul vero significato di cui pochi sono a conoscenza Ecco alcuni esempi tipici A noi è stata annunciata una buona novella come pure a loro Ma la parola predicata non giovò loro in nulla Non essendo stata amalgamata con la fede da quelle che l'avevano udita Ebrei 4.2 In questa citazione il noi e il loro rende chiaro che tutti noi siamo la buona novella Cioè il Vangelo vuol dire buona notizia Molto evidentemente la buona notizia per te sarebbe che hai realizzato il tuo desiderio Questo è ciò che ti viene sempre predicato dal tuo sé infinito Ascoltare che ciò che desideri esiste e che devi solo accettarlo nella coscienza È una buona notizia Non mescolarlo con la fede significa negare la realtà di ciò che desideri Quindi non c'è un profitto C'è una realizzazione possibile O generazione infedele e perversa Quanto tempo sarà con voi? Matteo 17.17 Il significato di infedele è evidente Perverso significa rivolto dalla parte sbagliata In altre parole la coscienza di non essere ciò che vuoi essere Essere infedele Cioè non credere alla realtà di ciò che assumi Equivale a essere perverso Fino a quando starò con voi Significa che la realizzazione del tuo desiderio È asserita sulla base del cambiamento verso il corretto stato di coscienza È come se ciò che desideri ti stia dicendo Che non sarà tuo finché non passi dall'essere infedele e perverso Alla rettitudine Come già detto La rettitudine è la coscienza di essere già quello che vuoi essere Con fede egli abbandonò l'Egito Non temendo l'ira del re Perché egli sopportava come vedendo colui che è invisibile Ebrei 11,27 Egitto vuol dire oscurità Il credere in molte divinità Cioè in molte cause Il re simboleggia il potere delle condizioni o circostanze esterne Egli è la tua concezione di te stesso Di essere già quello che vuoi essere Sopportare come vedendo colui che è invisibile Vuol dire persistere nell'assunzione che il tuo desiderio è già realizzato Quindi questa citazione significa che Persistendo nell'assunzione che sei già la persona che vuoi essere Tu ti elevi sopra ogni dubbio Paura e credenza nel potere delle condizioni o circostanze esterne E il tuo mondo si adatta inevitabilmente alla tua assunzione Come Paul Twitchell affermava in Straniero in riva al fiume Soprattutto devi avere fede nel tuo stesso potere di raggiungere Dio E puoi aver fede nel tuo guru Che è l'uomo Dio E che ti può mostrare Dio Dopo ancora Aver fede nell'essere supremo Che viene a te Poiché tu hai fede nel tutto La fede è uno degli elementi essenziali del sentiero Per pervenire e dimorare in Dio Senza fede le opere sono morte Disse uno dei discepoli di Gesù Le definizioni di fede del dizionario L'ascesa della mente o comprensione della verità E' incrollabile adesione e fedeltà a un principio Sono talmente pertinenti Che potrebbero benissimo essere state scritte Proprio avendo in mente la legge di assunzione La fede non dubita La fede sa Questo ultimo passaggio è meraviglioso E' il minimo che posso dire La fede non dubita La fede sa Bellissimo siete d'accordo? La fede sa Perché quando tu lo sai Quando tu hai questa certezza dentro di te Quando è questa certezza da dove ti arriva? Dalla conoscenza La conoscenza ti dà questa certezza E questa certezza è la fede Perché tu lo sai che è così La creazione è finita Perché tutte le possibili realtà Sono ora qui presenti Quindi è la nostra attenzione La nostra assunzione di essere già Ciò che vogliamo essere Di avere già Quella proiezione che noi Nell'adesso Proiettiamo in domani Il domani non c'è ma Nell'adesso Praticamente noi cosa facciamo? Noi Immaginiamo Quindi quell'assunzione Quell'immaginazione Quelle emozioni che tu provi Nell'adesso Che fa Crescere quel vortice di energia Che diventa sempre più veloce Sempre più veloce Questo vortice di energia Produce ciò che noi chiamiamo Forma Entra nella forma Si manifesta come Come una Come una circostanza Come un'idea Come insomma Come quello che è Quello che tu desideri Ok? Quindi si manifesta In qualcosa che ti porta Al tuo desiderio Esattamente come tu l'hai visto Nella tua immaginazione Tu lo devi Devi assumere di averlo già E quella Lo facciamo sempre Lo facciamo tutti Io Non è che sono migliore di voi Sono più attenta Ultimamente A ciò che facciamo di solito Quindi Sono diventata Molto più disciplinata E più attenta A quale è il mio dialogo interiore E a ciò che assumo Che sia vero Ok? Quindi È qui che dobbiamo lavorare La conoscenza È questo Questo cammino Che stiamo facendo Ogni giorno insieme Questa conoscenza Ti dà il potere Immenso Di sapere ciò che sei Che puoi fare Ciò che desideri Che hai la capacità Di farlo Perché dentro di te C'è questa scintilla divina Questa scintilla Che noi abbiamo Dentro di noi Ci permette Fa di noi Dei creatori Veri e propri Perché noi Abbiamo La capacità Di creare Ogni cosa Che noi Desideriamo Come però Che cosa ci serve Ci serve L'immaginazione Ci serve L'assunzione Ci serve Il desiderio E questo Tutte queste cose Mettono in moto Questo vorticello Che inizia piano E riprende Man mano Che tu lo guardi Man mano Che la tua attenzione Va là Man mano Che le tue emozioni Si amalgamano A tutto ciò Questo vortice Di energia Cresce 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 E poi Entra nella forma Boom Mentre Meno Te l'aspetti E già lì Andiamo a vedere Cosa ci dice Del destino La legge Dell'assunzione È la chiave Maestra Verso L'ottenimento Conscio Del tuo destino Più elevato Il tuo destino È quello di cui Devi provare Invariabilmente L'esperienza La realtà È un numero Infinito Di destini Individuali Ciascuno Dei quali È il luogo D'avvio Per un nuovo Destino Essendo la vita Infinita Il concetto Di un destino Ultimo È inconcepibile Quando comprendiamo Che la coscienza È la sola realtà Sappiamo altresì Che essa È l'unico Creatore Significa Che la tua Consapevolezza Indirizza il tuo destino Tu crei Il tuo destino In ogni momento Che ne sia Consapevole Oppure no Molto di ciò Che è bene E perfino Meraviglioso È venuto Nella tua vita Senza che tu Abbi avuto Alcun sospetto Di esserne Tu stesso Il creatore Il comprendere La causa Della tua Esperienza E la conoscenza Di essere Tu L'unico Creatore Del contenuto Della tua vita Sia bene Che male Non solo Fanno di te Un osservatore Molto più acuto Di tutti i fenomeni Ma attraverso La consapevolezza Del potere Della tua Medesima Coscienza Intensificano Il tuo apprezzamento Della ricchezza E grandezza Dell'esistenza A prescindere Dalle esperienze Occasionali Contrarie È il tuo destino A elevarti A stati Sempre più alti Di consapevolezza È a portare A manifestazione A un numero Sempre maggiore Di meraviglie Della creazione Sei destinato A raggiungere Il punto In cui ti rendi conto Che tramite Il tuo stesso Desiderio Puoi consciemente Creare I tuoi destini Successivi Lo studio Di questo libro Con l'esposizione Dettagliata Della coscienza E dell'operatività Della legge Dell'assunzione È la chiave maestra Per il raggiungimento Cosciente Del tuo Sommo destino In questo stesso giorno Avvia la tua Nuova vita Accostati A ogni esperienza Con una nuova Struttura mentale Con un nuovo Stato di consapevolezza Assumi lo stato Di consapevolezza Più nobile per te E per ogni cosa E continua Da quel punto Abbi fede Grandi meraviglie Sono possibili Andiamo a vedere Cosa ci dice Dell'adorazione E questa Ultimissima parte Inizia Con questo passaggio Tu sei Dio Tu Sei Gli io sono Quello che sono Tu sei Consapevolezza Tu sei Il creatore Mai avresti Tuffato qualcosa Se tu Non lo avessi amato Saggezza 1124 In tutta la creazione In tutta l'eternità Del tuo Infinito essere Il fatto Più straordinario È quello Sottolineato Nel primo capitolo Di questo libro Tu sei Dio Tu sei Gli io Sono quello Che sono Tu sei La coscienza Tu sei Il creatore È il grande segreto Noto attraverso Le epoche I veggenti Profetti Mistici È la verità Che intellettualmente Non puoi mai Conoscere Chi è questo Voi? Che è voi? Joe Smith O Mary Brown È l'osservatore È la coscienza Sapere che tu Sei John Smith O Mary Brown È il tuo Te maggiore È il tuo Te maggiormente Profondo È il tuo Essere infinito Chiamalo come vuoi La cosa importante È che si trova In te stesso È te È il tuo mondo È questo Fatto Che sottolinea L'immutabilità Della legge Dell'assunzione È su questo Fatto Che è edificata La tua vera E propria Esistenza È questo Concetto Il fondamento Di ogni Capitolo Del libro Nessuno Può conoscere Ciò che in maniera Intellettuale Non puoi Dibaterlo Non puoi Renderlo Evidente Con delle Argumentazioni Puoi solo Sentirlo Puoi soltanto Esserne Consapevole Diventandone Conscio Una grande Emozione Per me Al tuo essere Vivi Con la Perene Sensazione Della Riverenza La conoscenza Che il tuo Creatore È il vero E proprio A te Di te stesso Che non ti avrebbe Mai fatto Se esso Non ti avesse Amato Deve colmare Il tuo Core Con devozione Sì In adorazione È sufficiente Dare In qualsiasi Momento Uno sguardo Consapevole Al mondo Per colmarti Di profondo Timore Reverenziale Nonché Di una Sensazione Di adorazione Nel tempio Interiore È solo Quando L'intensità Di questa Sensazione È al massimo Che sei Più vicino A Dio E quando E quando Lo sei La tua Vita È Sommamente Ricca I nostri Sentimenti Più Profondi Sono Esattamente Quello Che Meno Siamo In grado Di esprimere E perfino Nel lato Di adorazione Il silenzio È la nostra Lode Soma Ed eccoci qui Con questo ultimo Passaggio Si è concluso Questo meraviglioso Straordinario Libro Bellissima Quella prima Citazione Di saggezza 11.24 Tu sei Dio Tu sei Io sono Quello che sono Tu sei Consapevolezza Tu sei Il creatore Mai avresti Tu fatto qualcosa Se tu Non l'avessi Amato Questo deve Entrare Nel vostro Essere Nel vostro Cuore Dovete Averlo Presente Sempre Perché Questa Conoscenza Apre Il vostro Cuore Apre I vostri Centri Energetici Vi eleva A una A una Maggiore Velocità A una Maggiore Vibrazione Su Una Maggiore Frequenza Questo Ci eleva Da questo Mondo Tridimensionale A un A una Vibrazione Maggiore A un Mondo Migliore Perché Più Ci Eleviamo Più Veloci Sono Le nostre Manifestazioni Allora Io mi Fermo Qui E domani Iniziamo Con un Nuovo Libro Di questo Primo Capitolo Grazie a tutti A domani Ciao Grazie Mille Ciao Ciao